salve io sono pulcinella e beh oggi voglio fare un messaggio per quanto riguarda la sicurezza stradale e beh a tutti i giovani a tutto il mondo la prima cosa capisce pulcinella quando vado per la motocicletta o mezzo, bom bom bom, stateva accorto la prima cosa mettetevi un casco e poi faccio un bello casco e poi mettetevi una bella giubba che vanno a vedere quando guidate poi quando guidate la macchina una cosa importante che ti fa, mi raccomando sempre prima che partite faccio tu, faccio tu che è importante, non vi distraite, ho telefonino e guardi, basta da sta calma, a massimo mettete la regolazione, guardate la discoteca e l'importante che non vi ho pagato nessuno alcolici, a massimo pulcinella perché c'è sta lì, ma voi o vino non vado a pigliare, non vado a pigliare, non ti festeggiare, state in famiglia, tutti i compagni, tutti gli amici, non vado a pigliare, non vado a pigliare, non vado a pigliare, ma queste cose semplici, e ora pulcinella a tutti voi, vi dici, stateva accorto, la vita importante, la sicurezza è la cosa più fondamentale per questa società, e ora felice e contento vi voglio salutare, saluta l'associazione Meridiani, a tutte le forze dell'Ordine, e stateva accorto, stateva accorto, ha pulcinella questa, e bravè, 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 bravè. Grazie a tutti.